Scena a primavera Siamo a riuscire a appena Siamo a riuscire a vedere Posizione numero 3 Siete? 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 Non c'è? E quale te ne rimassa? Sì, è una riscita. Se ti guardi anche su con la testa. Non è che sono anche passi passi. Quale fanno ad essere sincronizzati? Ecco, è un altro gruppone qua sopra. Guarda, se ne è giunto un altro gruppo. Guarda, un altro tipo di famiglia, sopra. E ma sa quanti sono? Migliaia. Sì, migliaia. Guarda ti porto un paduro, se ti vuoi di guardare un paduro. Guarda, tu lo puoi vivere benissimo. Sono già spostati, guarda. Tantile. Ma vanno a letto. Solo stasera c'è un po' più, di solito c'è un tanto di più. Ma mi si allargano ora. Guarda, mi si allargano. 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 Guarda, mi si allargano.